La cultura, come ha detto lei, non si ferma, non può fermarsi in questo momento drammatico che stiamo vivendo. Credo che sia una forma anche per aiutare le persone e anche a trascorrere quel tempo per il quale dobbiamo necessariamente stare in casa. Il Festival del Cortometraggio giunge alla 22esima edizione. Ci terrei a sottolineare il tema scrittura e immagine. Questo Festival è nato proprio per chi scrive per il cinema. Il cortometraggio ha una funzione molto importante anche perché è quel tipo di film breve che può essere realizzato da tutti e non soltanto da chi evidentemente può utilizzare il meccanismo del cinema. Non possiamo, come sapete, avere spettatori perché i musei sono chiusi, ma utilizziamo quello che ci è concesso di usare, cioè la piattaforma MyMovie per la quale sarà possibile prenotarsi e su cui si potranno vedere questi corti che sono davvero straordinari. La maggior parte sono di giovani, molto bravi, devo dire molto promettenti, anche di paesi come l'Iran e la Tunisia che sono cresciuti tantissimo dal punto di vista cinematografico. Ma soprattutto vorrei dare dei numeri che secondo me sono straordinari. 2380 paesi, chiedo scusa, 2380 corti sono pervenuti qui in associazione e 104 paesi da tutto il mondo. Questo vuol dire che Pescara è al centro di questo passaggio del cortometraggio, diciamo di questa anticamera verso i film più importanti, che anticamera assolutamente non sono perché avrete modo di scoprirlo voi attraverso la visione, sono storie brevi ma bellissime.